Per comprare i crediti inserite il coupon XanderGamer90 su GoFIFACoins.com per ottenere il 5% di sconto sui prezzi più bassi in circolazione. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, nuovo pack opening su FIFA 15 Ultimate Team. Oggi lunedì 1 dicembre è il Cyber Monday e ci sono altre nuove offerte per quanto riguarda i pacchetti. In teoria ci sono 5 pack, dunque aspettate che c'è anche dei pacchetti da aprire che però non aprirò oggi, anzi forse sì. Ma... allora ci sono dei pacchetti... dunque, sì vabbè, questi non me ne fai... ah, sono questi. Sarebbero questi qui, quindi, Lightning Rounds, contiene il WF... sì, forse sono questi. Poi ci sono questi... no, eh... Pacchetti Aurora... allora, perfetto, i pacchetti quelli Lightning Rounds sono questi, apriamone un po'. Eh... finché ce ne sono. Ah, proprio così ragazzi, sto facendo la svelta perché so che ci sono 5 pacchetti da 25k ciascuno. Eh... sì, vabbè, qui non c'è proprio un cavolo. Dicevo, praticamente ci sono fissi per tutta la giornata questi qua, i pacchetti oro rari da 25k, se ne possono prendere 5 a testa al massimo e li apriremo fra poco. E poi ci sono, come è stato per il Black Friday, anche dei Lightning Rounds. Nel Black Friday non sono riusciti a prendere neanche uno, ovvero, dei pacchetti che vengono messi a determinate ore, in quantità limitate, qui ce ne sono ancora 87.000. E... e niente, insomma, ce ne sono tot... un numero determinato, quando finisce quel numero, chiunque li abbia comprati, i pacchetti finiscono. Il primo è questo qua, con i pacchetti a 15.000, che fanno abbastanza schifo, adesso ne apriremo ancora qualcuno, ma tanto per... si sa mai. Ricordo che c'è ancora Messi, il Record Breaker, è per questo che ci tengo tanto ad aprire. E... però ci saranno anche altri rounds stasera. Non so se ce la farò in caso, se ce la faccio ad aggiudicarmi qualcosa, farò altri pack opening, un altro pack opening in cui raccoglierò gli spezzoni eventualmente registrati stasera. Comunque, andiamo a aprire qualche altro pacchetto da 15k, insomma, finché ce ne sono. Qualcuno apriamolo e poi ci concentriamo su quelli... saltiamo le animazioni e perdiamo tempo, sì, ma questi fanno veramente schifo, comunque. Non vale neanche la pena. Boh, ne apriamo un altro e poi basta, perché questi non vale proprio la pena aprire e aprirli, secondo me. Boh, lasciamoci anche l'animazione qua, anche se questi fanno veramente pena. Eh, la vezzi, che peraltro è doppione, quindi... a maggior ragione non me ne faccio nulla. Eh, tanti doppioni sto pacchetto, eh. Allora, direi basta con questi pacchetti, perché sono veramente inutili. Andiamo a aprire i pacchetti oro-rari. E vediamo un po' cosa salta fuori. Qui però godiamoci un attimino anche l'animazione di qualche pacchetto, magari non di tutti. Allora, e tu? E tu, Tarab? Contratti, contratti, 4.000 crediti. Diabate. Eh dai, e metticeli un Messi, un Messi qualsiasi. Saltiamo sta animazione di niente, mamma mia. Tutti i doppioni! Porca puttana. Terzo ultimo pacchetto, Krull. E di nuovo tutti i doppioni. Ho vincito da avere davvero tanti, mi sa. Penultimo pacchetto per questo back-opening. Julio Cesar. Via. Cusca. Contratti. E un solo pione. Ultimo pacchetto. Corluca. Müller, che non è quello buono. Il Santiago Bernabéu. E di nuovo Krull, trovato un attimo fa. Vabbè. A questo punto, se sono rimasti, mi andrei ad aprire così. A sfregio ancora una volta uno dei pacchetti speciali, ma credo non ce ne siano già più. Andiamo. No, invece ce ne sono ancora, ce ne sono in assa ancora 50.000. Questi due le hanno ancora un bel po'. Dai, apriamone uno solo e poi veramente chiudiamo. Anche se non si avrà mai niente. Ma diamoci l'animazione. Di foo. Che è la doppione, peraltro. Vabbè, mi torneranno utili per i contratti a sto punto. Questo è sicuro. Allora, ragazzi, io vi ringrazio di aver saputo questo pack opening. Niente, direi che questo seguito finisce qui. Spero che ne possa arrivare un altro nei prossimi giorni che magari riuscirò a registrare stasera, perché sicuramente metteranno dei pacchetti migliori di questi da 15.000. Soprattutto quelli in tarda serata. Quindi, stasera sono a casa. Spero più che altro di non essere in daffa radio, di riuscire a accaparrarvi qualche pacchetto. E chissà, magari dovrai qualcosa di veramente buono che non sto trovando in questi ultimi pack opening. Quindi, mi ringrazio. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, un dislike. Se non vi è piaciuto, ditemi voi cosa state trovando, se siete riusciti ad aprire qualche pacchetto nel frattempo. E noi ci vediamo, appunto, con il prossimo video che spero arrivi a breve. Spero sia un altro pack opening, sempre del Cyber Monday. A presto, ciao!